Io ho scritto cedere per sigilli e poi devo fare l'ina romana e poi direi sì sì scusa Io ho scritto cedere per sigilli Io dopo di che se voglio fare la presenza un'amica romana e poi il resto non mi piace No, 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 vogliamo farlo due e poi lo vogliamo riprendere perché vorremmo fare una pausa a pranzo Ah sì? Eh, sì Buongiorno Io sono un neoptero di questo gruppo della politica in generale Quella cultura La mia storia è un'unica che non ha una organizzazione con una forte potenzialità E mi riallaccio quindi ai discorsi e alla presentazione dei coordinatori per fare delle osservazioni Perché mi scuso se sono delle cose che magari per voi sono scontate ma per me è nuovo o no? Nelle tematiche che avranno affrontate ho visto, diciamo, dovuto senza dubbio alla resistenza dei tempi La mancanza della politica estera Io penso che la politica estera a livello di Alde come partito europeo sia essenziale Perché sviluppare delle idee, delle linee fondamentali di politica estera Vuol dire gettare il cuore oltre lo Stato Vuol dire già pensare come partito a un'Europa federale E l'Europa federale è l'unica, è l'unico strumento che ha avuto a fare L'altra assenza che ho visto è l'educazione in queste tematiche L'educazione è fondamentale perché noi dobbiamo educare i giovani a essere europei e liberi E questo vuol dire tantissime cose Vuol dire un'uniformità di educazione ai debiti dei stati dell'Unione Vuol dire tecnologia, vuol dire lingua Faccio un esempio, noi come gruppo su Facebook abbiamo avuto il problema dell'utilizzo della lingua inglese Un'altra iniziativa, se già non è in atto Potrebbe essere quella di sfingere Io provocare sempre a livello di tutto Alde con l'Unione All'inserimento già dalle scuole, dalla sicura Dell'utilizzo di lingua nazionale inglese e altra lingua europea Io ho contato un architetto tedesco Penso un ispettore anche della Deutsche Schule Lui mi ha detto che i ragazzi rimettono in grado di usare italiano, tedesco e inglese Per fine carriera scolastica E questa è un'iniziativa che può avere impatto Anche politicamente, visibilità, perché è di buon senso Poi Un'altra cosa in cui io non mi ci trovo benissimo È la definizione che siamo moderati Moderati per molte cose E' estremistina Della differenza dei diritti dell'uomo Chi ha detto che siamo moderati? Mi diciamo moderati Per esempio Se hai fatto l'esempio Vi vedo che sono nuovo Quindi non conosco neanche i nomi Mi ha appassionato I moderati sono quelli che Berlusconi L'acismo L'acismo noi lo difendiamo a spada tratta L'acismo per noi ha un valore Per altri un disvalore Per altri una classifria Io sono stato accusato di essere classifero Per aver detto che c'è una separazione tra Stato e Chiesa Da uno che si definiva islamico moderato Cioè Bisogna difendere questi valori a spada tratta Non vedo altra alternativa In nome di multicolore del terrorismo Quello che è E' giusto Importante E' stato accennato Il fatto del crowdfunding E anche della comunicazione Che saranno molto importanti Perché dobbiamo anche acquisire Una forte visibilità Quindi magari fare una specie di seminario Per organizzarci Per vedere come sarebbe importante Ma penso che anche Molta visibilità e comunicazione La si faccia partecipando Se troviamo un partito Una lista Anche nelle elezioni Diciamo Comunari o quelle che siano Che ci permette Comunque di inserire il nostro simbolo Di dare voce A qualcuno dei nostri rappresentanti All'interno di dibattiti politici Che le visive E' tanto di guadagnato Per chi non ci conosce E' veramente nessuno E serve anche Per selezionare E' una classe dirigente Poi durante la discussione C'è stato questo problema Per l'appartenenza A più partiti Fosse poi la lega di salvinio Anche perché Andiamo per l'Italia Assolutamente Volevo dire Questo discorso dell'inglese Poi si è venuto fuori Spero che sia stato risolto All'interno di inserire il nostro simbolo All'interno di inserire il nostro simbolo All'interno di inserire il nostro simbolo